Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 48,600 e 47,200 tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in direzione Siena. Scambio di carreggiata per lavori tra i chilometri 23,500 e 25,800 tra Poggi Bonsi e San Donato in direzione Firenze e chiuso anche lo svincolo di Poggi Bonsi Nord. Per le statali sull'Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra i chilometri 242,80 e 243,780 tra Rio Torto e Venturina in entrambe le direzioni. Infine per i treni l'Euronaut 35301 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 3 ore e 14 minuti di ritardo, ferma ad Arezzo alle 12.06 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!